buongiorno a tutti e finalmente benvenuti nel mio canale da plastic siamo al quinto episodio scorso episodio abbiamo giocato con il cugino di Majin questa volta giocheremo con il cugino dello Yeti in freddo agghiaggiande è agghiaggiande non è possibile cerca di copiare i gruppi con il zero profondo che ballerino provetto ciao tu sei no bravo io sono plastic non sono berg comunque il mio potere gelo profondo fa scivolare i tondini per due toni anche quello dell'altra volta Bjorg era un tennista canestro era un tennista anche questo qua mi sembra un nome ok sta simpatici i tennisti e quelli ai sviluppatori di questo gioco buongiorno ma che potere è andiamo subito a vederlo wow che storia ah ma subito diretto wow eh se mi fai tirare mi si fa così look che storia bello questo mucio bello come potere quindi mo basta bello 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 ovviamente bleee il nostro classico cosa è quello di buttare giù tutti i tondini aranzio canestro ce la faccio prendere quello la verde dai Dai che ce la faccio Però poteva farlo il turno dopo Non subito Perché subito così Spostiamo questi Proprio gli sposta Sì, uno, due, tre, quattro, cinque Devo fare un rimbalzone Così e prenderne un altro Benissimo, benissimo Abbiamo tre pazze La facciamo Berg Non ti preoccupare Dove fare quella fazza lì Insomma E come faccio? Aspetta, facciamo così Guardatene Ma guardate che Di rimbalzone E la miseria Subito così Va bene Rifacciamo Tac, tic, toc, tec, tac Eh ma prendimi anche l'altra No? Lo cacchio sono quelli verdi Fì, guarda dove sono Dove li hanno messi L'hanno fatto a posto Canestro! Si balla, si balla, balla Basta che non cadi Che dopo Mamma mia Lo spirito di Michael Jordan È sempre con noi Mamma mia Vengono qua Oh Dio Non subito così Spostiamo questi qua Ho preso anche l'altro Quindi ne ho ancora Di tiri Ah no Benissimo L'ha già mandato via tutto Quindi spostiamo questi Quindi mi sa che c'ho ancora Due tiri Perché ho beccato anche l'altro verde E mi sa di sì Spostiamo questi Lecchete E mo' già facciamo Allora Io direi di andare Ah no Ah Mi hanno mandato un bonus Do Vabbè chi se ne frega Yam E mo' già l'ultimo Ci siamo subito rifatti Tac Vabbè Le mega censure alle chiappe Oh Dio mio Hai le chiappe di fuori Un tondino che scivola Può capire altri tondini Ah Proprio effetto 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 domino Effetto domino Quindi Se Se c'è un tondino blu Che becca uno azzù Uno aranzo Me lo conta Sì Dai che me lo conta Boom Oh Perché l'altra volta Non me l'aveva fatto colpo Il doppio colpo Eh Quindi se faccio così Se faccio così Sì Perché se avete fatto caso C'era un tondino blu Qui in fondo Ha beccato un altro tondino Arancio E me l'ha contato Sì Perfetto È bellissimo Quel Mamma mia Il mega canestro È molto bello Quel Potere Sì 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 Ve lo consiglio a tutti Nei migliori supermercati Potete acquistarlo tutti A modica cifra Dei 3.000 euro Anzi 3 pippi 1 2 3 4 5 6 7 Dai Mega rimbalzo Che becca qualcos'altro Perfetto Perfetto Non si poteva chiedere di meglio Uh Tech Ma mo' È un po' un problema Andar via quella Però Di rimbalzone Insomma Allora Pigliamo questa E siamo contenti Io direi di prendere quella verde Se ce la faccio Ma ce la faccio Guarda Mamma mia 100.000 Ma da Ma che rimbalzi sono E vaffanculo Cioè Era Era dentro Al 100.000 Va benissimo Ok 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 No 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 Va bene va bene Va benissimo E Intanto vi dico Uh Vinci con tre palle Vabbè Io ne ho due Quindi Sono sempre buono Ah Colpisci un mattoncino Con il zelo profondo Illuminare i mattoncini Da entrambi i lati Odio Boh Scusate se In questi Zor No Tipo le scorse settimane Non ci sono stati tanti video Ma Diciamo Non Non ne avevo registrati Dai Tutto Fateli tutti Non arrivo di scarti Non ne avevo via E Comunque Nelle prossime settimane Vi ho detto anche Che avrei fatto un video Esplicativo Ma che bello anche l'effetto Con la neve Un video Esplicativo Mamma mia Che mega cani sono Questo Un video esplicativo Di un paio di cose Che volevo fare Ma non mi muove Quelli Quelli quadrati Su Ecco Se mai lo farò Solo uno Per spiegarvi Che intanto Ci sono due Grossi cambiamenti E Uno sarà Cambierò Modo di Fare video Intanto Che c'è l'estate Ecco perché Non Diciamo che Negli ultimi video Non mi sono Preparato bene Quindi Non Non ho continuato A postare video E quindi Almeno per quest'estate Cambierò Tipologia di video Ecco Continuerò sempre Con i videogiochi Ma Cambierò Wow Modo di farli C'è Cambierò Lo stile C'è Lo stile Bel tiro Avremmo iniziato In non salvataggio Perché Facciamo una rotta Diamoci di balle Dalle balle Quello Vediamo questo E facciamo A rimbalzone Sull'altro Guardatene Canesto In pratica Per farvi la breve Per un po' Le chiappe Non farò più Let's play Stile batman Perché ho visto Che non Non ce la faccio Non a portare avanti Ma Stare lì a giocare A fare Video su una storia Dopo La vedo lunga E a massimo C'è a massimo Farò video Su Questi tipi di giochi Diciamo I giochi arcade O comunque Quelli da scaricare Ecco una pozza d'acqua Fatta di pura H2O Non ce l'avemi capisciato Dentro Con i bumper E così a meno Per dire So che magari Durano quello E ce la faccio Anche meglio A gestirmi E non fare Tipo la fine Di batman Che era un po' Che non posto più video Quindi E poi Il secondo cambiamento Lo vedrete Anche perché Si noterà E anche perché Boh canestro E anche perché Con questo cambiamento Spero di Non smadonnarci Più dietro A una determinata cosa Perché la sto vivendo Perché sono solo Cagate Sono queste le cose Da Da starci male Però mi girano Un po' le balle No Che a saperlo prima Comunque Ritorniamo Quale Zio Oco Black Comunque Questo fatto È bello Questo Di potere Però Potevano Fare come tutti gli altri Che si attivava dopo E non subito Il primo tiro Che magari Tu non vuoi tirare Lì E quindi Non sputtani Il tiro Ecco Mega caneschi Anche qua Tipo se Io tiro adesso Sul verde Si attiva subito Ma magari Come adesso Non è che abbia beccato Chissà chi Quindi era meglio Che Si fosse attivato Prima Cioè dopo Tipo adesso Ancora un tiro Comunque È davvero Un bel Un bel potere Allora C'è ancora Cinque tondini E cinque palle Se la faccio beccare Quella Perfetto Quindi Moge Facciamo Chisto De rimbalzo E prendiamo Nugazzo Proprio Ah ma Quelle sono Ah Amico mio Ci sono le tue Mutande Dopo capisco Perché Ti zera Il culo No Di rimbalzo Col bumper Mamma mia Ma mettiti Sulle mutande Cento Cento Guarda che non va Mamma mia O che sanno Che ci gioco io Hanno fatto Un cacchio Di spuntoni A posto Che li debbia Mamma Madonna Che brutte cose Allora Ah che nuvole Ci sono delle nuve Dove vero Belle Eh sì Allora Quello lì Se mi sbaglio È lui Questo qua Dovebbe essere Quello del Primo di Pigol Dopo non so Se ci sia Anche qua Ah ma Si continuano Muove Se ciazzo Madonna mia E questo è difficile Questo è difficile Cazzarola Dopo vedo A che punto siamo Di questo Capitolo Io almeno faccio Non dico capitoli Capitoli corti Ma evito di fare Tipo Gli ultimi L'ultimo livello Lo faccio Quando Faccio l'episodio Dopo Con capitolo Nuovo Spero ci siamo Capiti Qui almeno Faccio Due Due episodi Con un solo Capitolo E mo Qua è difficile Prendiamo Il potere Ma L'abbiamo preso In una maniera Guarda Che io Non ti dire Ah ma Quando Quando Ho tirato Non posso Attivare Eccolo Per andare Più veloce Vaffanculo E' molto preso Ah però Si bloccano Si bloccano I cosi Allora Tiriamo Una bomba Qua in mezzo Quindi Oserei Dire Abbiamo Quattro Tiri Ma Mi sa Tanto Che lo Rifacciamo Oh Prendiamo Ancora L'altro Sperando Cada Perfetto Buono Doppia palla bonus Se non mi sbaglio Porca miseria Non ce la faccio Tirarla Allì in fondo Oh si No Facciamo così Tac Buono E dai Abbiamo qua Cinque palle E sono Tutte sotto No Una è qua Vaffanbagno Dai Levati Levati Wow Wow Ma Avanti Tlek No Mi beccavi anche Bravissimo Canestro Via Essi Di rimbalzo Cadendo E prendendomi L'altra Dai Dai Mamma mia Cioè Mettiti su Le mutande 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 Ma che faccia fai Allora Vediamo a che punto siamo Allora Allora Ne abbiamo fatti Uno Due Tre Quattro Cinque Allora Cinque Ne mancano cinque Allora ragazzi L'episodio Finisce qui Ci vediamo Al prossimo episodio Vi ricordo sempre ragazzi Che La vostra soddisfazione È Il nostro Che Il nostro Il nostro E Ciao